Grazie Però non scartare sui cambio dei possessi, capito? Scarti solo quando si ferma la passione La passione della prima ripresa Perché c'è paura di perdere, devi scartarlo quindi fai subito salvo Grazie Passi . . . . . . bravo 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 e penso che è il tuo gira te andrà a testa o bravo 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 Grazie a tutti Grazie a tutti